spesso si sente dire che la posta elettronica è morta in realtà rappresenta lo strumento di comunicazione principale nelle aziende in un mondo densamente digitale iperconnesso i dati le informazioni che sono contenuti in essa vanno gestiti archiviati e protetti parliamo di questo argomento con pier giorgio spagnolati che responsabile delle infrastrutture di banca popolare di sondrio e con rodolfo saccani che è la cto di libra esva queste due aziende sono unite in una relazione una partnership e virtuosa che andiamo a approfondire per giorgio che ruolo gioca l'email in un istituto bancario come banca popolare di sondrio barbara come hai accennato all'inizio anche per noi come per tutte le aziende l'email ha un ruolo importantissimo noi lo vediamo ancora oggi sia in termini numerici i volumi di mail scambiati e anche nei feedback degli utenti soprattutto quando magari qualcosa non funziona perché le reazioni sono immediate quindi il livello di urgenza percepito è assolutamente di primissimo livello. Rodolfo mi piacerebbe capire cosa rappresenta per libra esva l'email uno strumento intorno al quale voi avete costruito la vostra proposizione di sicurezza per libra esva e l'email è naturalmente il focus principale siamo un'azienda di security interamente focalizzata sulla posta elettronica che è diventata un ambito di sicurezza che richiede una specializzazione estremamente elevata il motivo è che l'email è nata in tempi remoti è nata prima ancora di internet ed è nata in un periodo in cui nessuno avrebbe potuto mai immaginare una diffusione globale un utilizzo così diffuso di questo strumento quindi è nata con zero requisiti di sicurezza e la sicurezza è una cosa che ad aggiungerla dopo si fa molto fatica quindi se a questo abbiniamo il fatto che le minacce le nuove minacce nelle nuove varianti di malware si presentano al 99 per cento per la prima volta su una mail ecco queste due cose mettete insieme ci fanno più o meno capire quanto sia importante la specializzazione su questo settore specifico e quindi il nostro il nostro focus è quello il nostro focus è quello la ricerca e sviluppo si concentra sulla posta elettronica 24 su 24 per giorgio qual è l'esigenza di business che vi ha portato a scegliere il libra esva l'esigenza di business che ci ha avvicinato al libra esva è proprio legata alla l'importanza che ha l'email come strumento di comunicazione per la nostra azienda e quindi allo stesso modo dobbiamo garantire nella disponibilità e performance la sicurezza e fare in modo che queste caratteristiche non vadano a intromettersi nel lavoro dei nostri dei nostri colleghi per cui ci deve essere la sicurezza ma lo stesso tempo dobbiamo essere in grado di nel miglior modo possibile di dare garanzie di non entrare a disturbare l'operatività normale e non richiedere degli skill che potrebbero non essere disponibili nelle competenze dei singoli collaboratori questo tipo di esigenza ha fatto scegliere andare a cercare soluzioni che dovessero un altro grado di efficacia oltre che elevati livelli di sicurezza in termini di presidio nelle tecnologie a supporto dell'email. Rodolfo quali sono gli elementi caratterizzanti l'offerta di libra esva? La libra esva ha una suite di prodotti che va a coprire le varie esigenze legate alla posta elettronica quindi dalla protezione della posta elettronica protezione perimetrale alla archiviazione con garanzia di integrità disponibilità fino alla parte legata al fattore umano quindi training awareness relativamente al fishing. Libra esva ha altre caratteristiche particolari che la differenziano rispetto ad altre aziende che sono ad esempio il fatto di fare continuativamente ricerca e sviluppo in questo settore di farlo in Italia credo che siamo l'unico vendor che fa interamente lo sviluppo in Italia e l'approccio l'approccio come ho detto prima sulla posta elettronica si presentano le nuove minacce per la prima volta quindi è indispensabile essere in grado per essere efficaci di non limitarsi a bloccare quello che è noto come malevolo ma saper riconoscere le nuove minacce la prima volta che le incontriamo quindi per questo per arrivare a questo obiettivo è necessario mettere in campo degli approcci che noi definiamo pragmatici che poi insomma andiamo a declinare dal punto di vista tecnico in varie modalità ma che puntano a quello diciamo essere in grado di essere efficace fin dal momento zero in cui si presentano le nuove minacce. Per Giorgio in un mondo affollato di vendor di sicurezza IT quali sono stati i motivi che vi hanno portato a scegliere la sicurezza e l'archiviazione dell'email di Libra ESVA? Sì, il panorama delle soluzioni tecnologiche in ambito email security è decisamente affollato. Noi già qualche anno fa eravamo alla ricerca di soluzioni che avessero una forte attenzione a livello di pragmatismo sia nella erogazione del servizio di sicurezza da chi se ne occupa in ambito infrastrutturale e poi in termini di impatto sull'utente finale, quindi quanto questa efficacia si traduce poi in minore disturbo verso l'utente e in maggiore qualità, quindi in maggiore protezione proprio in ambito di security. Le soluzioni che abbiamo valutato sul mercato sicuramente avevano anche ottimi valori in termini di efficacia e di copertura sulla sicurezza ma in particolare con Libra ESVA ci siamo trovati assolutamente allineati dal punto di vista di strategia su come indirizzare la tematica a 360 gradi dell'email security e poi in termini pratici, quindi nelle operations day by day su come gestire l'interazione con l'utente finale e con le controparti esterne. Questo è quello che più di ogni cosa ci ha fatto indirizzare verso le soluzioni di Libra ESVA. Rodolfo, come ha secondate le esigenze di business di un cliente così di rilievo come Banca Popolare di Sondrio? Lo facciamo intanto coniugando in modo non veramente facilissimo l'esigenza di avere prodotti efficaci ma al tempo stesso facili da gestire, facili da installare e che non richiedano manutenzione. Dall'altro lato affiancando il cliente durante tutto l'anno. Non siamo un vendor che si fa vedere solo al momento del rinomo. Investiamo moltissimo sul supporto, investiamo sulla consulenza e seguiamo il cliente anche nelle occasioni specifiche come un attacco mirato ad esempio, la richiesta di un'analisi di una condizione particolare. Diciamo, ecco, siamo lì a fianco del cliente in qualunque momento. Per Giorgio, a che punto siete del cammino congiunto con Libra ESVA e quali i prossimi step? Il nostro percorso di collaborazione con Libra ESVA è iniziato con l'ambito della mail security nel senso più tradizionale del termine, quindi con l'attivazione delle funzionalità legate all'anti-spam, all'anti-malware che appunto sono quelle che in prima battuta devono essere indirizzate e coperte per garantire efficacia in ambito di mail security e sulla scia dei successi che abbiamo potuto misurare sul campo in diversi anni di collaborazione siamo andati poi avanti nell'adozione della soluzione di archiviazione della posta, che anche questa è particolarmente, ha richiesto particolare attenzione perché ha un impatto ancora diretto sugli utenti che devono essere tutelati in termini di semplicità di utilizzo nell'accesso all'archivio, l'integrazione con i sistemi di posta è un elemento particolarmente complesso da affrontare e quindi questo percorso è appunto andato avanti con l'adozione completa della soluzione di archiviazione. Per i prossimi passi ci stiamo indirizzando a un tema ancora parecchio complesso che è quello legato alla consapevolezza da parte degli utenti delle tematiche di sicurezza e in particolare quelle più dedicate che hanno a che fare con il mondo del phishing e anche in questo caso stiamo collaborando con Libraesva per capire quale può essere il percorso per aumentare il livello di consapevolezza degli utenti e quindi di conseguenza aumentare la protezione per la nostra azienda. Rodolfo, vogliamo vedere cosa bolla in pentola, quali le principali novità che riguardano l'offerta Libraesva? Le novità che abbiamo in programma sono a brevissimo il lancio della nuova release major della soluzione di Mail Security, la versione 5, che sarà un salto notevole rispetto alla versione precedente ed è in previsione nelle prossime settimane. Abbiamo in programma anche una nuova versione della soluzione di archiviazione della posta che è un prodotto che ormai è maturato e quindi andrà ad integrare tutta una serie di funzionalità che semplificano ancora di più l'integrazione e rendono più efficace sotto molti aspetti l'utilizzo quotidiano del prodotto. Abbiamo a giugno lanciato un nuovo prodotto, un nuovo servizio, questa volta cloud, di phishing awareness, quindi training con campagne di phishing simulate, che è un servizio che è in grado di inviare campagne di phishing e soprattutto misurare le metriche, misurare l'efficacia, misurare l'evoluzione nel tempo, insomma la crescita, nella consapevolezza dei propri utenti. Ecco, questo servizio che è nato a giugno sta evolvendo molto velocemente, essendo un servizio cloud non ci sono release puntuali ma c'è un'evoluzione costante. E poi abbiamo altre cose in cantiere, in previsione per il prossimo anno, come ad esempio un servizio per la gestione del D-Mark, cose di cui però diciamo, adesso lanciamo il messaggio ma non entriamo nel dettaglio. Ringrazio Pier Giorgio e Rodolfo per averci raccontato una storia di successo che poggia su tecnologie molto importanti in questo mondo digitale ma che soprattutto fa della relazione personale un elemento distintivo e di valore. Grazie a te Barbara, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a te Barbara, è stato un piacere.